Questa unità didattica è dedicata alla presentazione dell'algoritmo di ricerca con euristica A. L'algoritmo è stato sviluppato nel 68 dagli autori che vedete, qui il più famoso dei quali è Nils Nielsen, che credo poterlo considerare uno dei padri fondatori dell'intelligenza artificiale basata sulla logica. L'idea di questo algoritmo è quella di incorporare l'euristica, ma non farne un uso esclusivo e totale, ma di considerare l'euristica all'interno di un discorso di ragionevolezza, che poi vedremo appunto la ragionevolezza è diventata poi qualcosa di più, perché si è provato che l'algoritmo è anche ottimo, nel senso che è completo e troverà sempre la soluzione ottima. L'idea è semplicemente quella di, sì, ok, espandiamo pure i nodi che saranno promettenti, in base quindi al valore della funzione euristica, ma teniamo in conto anche il costo della mossa per andare su quel nodo, e quindi sì, saranno promettenti, ma se siamo sicuri che sono già molto costosi, questo potrebbe in qualche maniera appunto far ritenere che forse espandere quel nodo che è più promettente ma molto costoso potrebbe non essere conveniente. E quindi sostanzialmente l'idea è quella di utilizzare come funzione di valutazione dei nodi sulla frontiera non solo la componente euristica, ma la componente euristica H sommata alla componente di costo G. Incidentalmente appunto questo algoritmo, in alcuni casi, conviene anche tenere in conto il concetto di funzione di valutazione per un sottoalbero di ricerca. Dato un albero di ricerca, il valore della funzione di costo di quell'albero sarà il minore del valore della funzione di valutazione per tutti i suoi sottoalberi. Comunque il concetto fondamentale è questo qui, che è la valutazione di un nodo, la funzione di valutazione di un nodo. Ecco, prima di addentrarci, un piccolo nota storica, Nielson ha sviluppato questo algoritmo a partire dal campo della ricerca di percorsi ottimi per il robot. Qui abbiamo rappresentato Shakey, che è stato il robot che è stato sviluppato da Nielson e collaboratori allo Stanford Research Institute in quegli anni lì, negli anni 60, e che ha dato lo spunto non solo alla dimensione di questo importante algoritmo, ma anche, come vedremo più in là, torneremo a parlare di Shakey quando parleremo della pianificazione. Dunque, vediamo come funziona l'algoritmo A applicato al database della Romania con la funzione euristica che abbiamo visto nella unità didattica precedente. Dunque, il nodo di partenza è sempre Arad che ha una funzione di euristica 366 perché è distante 366 km di linea d'aria da Bucharest e una funzione di costo 0 perché ovviamente partiamo da lì quindi non abbiamo nessun costo ad andare ad Arad partendo da Arad. Quindi, in pratica, la funzione di valutazione dell'unico nodo sulla frontiera è pari alla somma di questi due valori, 366, che è anche il valore di costo dell'albero stesso. Quindi, a questo punto, espandiamo l'unico nodo che abbiamo sulla frontiera e vediamo che si generano i tre nodi figli che conosciamo già che andranno a rimpiazzarlo all'interno della frontiera. abbiamo Sibiu per quanto riguarda Sibiu 140 il valore di costo 253 la distanza di linea d'aria verso Bucharest questi sono i valori per Timisoara e questi sono i valori per Zerind. Facendo la somma di questi valori abbiamo che la funzione di costo più la funzione di valutazione più bassa dei tre figli c'è la Sibiu che è 393. A questo punto Arad, che aveva una funzione di costo 366 adesso avrà come funzione di costo il costo del miglior sottoalbero la funzione di valutazione del sottoalbero che ha una funzione di valutazione minore che in questo caso è Sibiu è 393. Quindi vedete che Arad passa da 366 a 393. A questo punto tocca Sibiu perché ha una funzione di valutazione più bassa di tutti. Viene quindi espanso Sibiu Sibiu va via dalla frontiera e mette nella frontiera Arad, Fagras, Oradea e Rimini Cuvilcea ciascuno con la sua funzione di valutazione che vedete riportata qui nella slide. Sentiamo che il minore dei figli il costo minore dei sottoalberi di Sibiu è quello relativo a Rimini Cuvilcea che è 413 in questo momento e quindi Sibiu prende 413 prima aveva 393 e adesso prende 413 e fa diventare 413 anche il costo di Arad perché è sempre il minore dei tre e quindi Arad diventa 413. Quindi è passato da 366 a 393 e adesso è a 413. Vedete che aumenta il costo dell'albero questo è successo anche per Sibiu che è passato da 393 a 413. Comunque adesso sulla frontiera il nodo che è sulla frontiera che ha la minore funzione di valutazione è Rimini Cuvilcea 413 quindi si espande Rimini Cuvilcea che va via dalla frontiera e immette sulla frontiera Craiova Pitesti e Sibiu Sibiu era andato via dalla frontiera come era successo prima per Arad adesso viene rimesso a causa dell'espansione di Rimini Cuvilcea. Ora Rimini Cuvilcea ha un figlio che è Pitesti che ha funzione di valutazione 417 è il figlio più economico e quindi Rimini Cuvilcea diventa l'albero che parte da Rimini Cuvilcea ha funzione di valutazione 417 prima aveva 413 e adesso sale a 417 ma come vedete il valore dell'albero che parte da Sibiu non rimane va a 415 da 413 e non a 417 perché Sibiu ha un altro figlio che è Fagaras che ha valore 415 quindi salirà da 413 a 415 non da 413 a 417 e infatti il prossimo figlio il prossimo nodo sulla frontiera che sarà espanso non sarà un figlio di Rimini Cuvilcea ma sarà un figlio un fratello di Rimini Cuvilcea e cioè Fagaras perché ha 415 che è meno di 417 che sarebbe il valore di Pitesti viene espanso Fagaras da Fagaras si può andare a Sibiu quindi abbiamo di nuovo Sibiu un'altra copia di Sibiu sulla frontiera e anche si può andare a Bucharest il Bucharest è interessante perché ha 450 di funzioni di valutazione che sono interamente funzioni di costo perché la funzione di euristica per Bucharest è 0 e quindi uno potrebbe pensare ok abbiamo trovato il nodo quindi ci fermiamo il nodo gol e quindi ci fermiamo in realtà non è così perché di tutti i nodi che stanno sulla frontiera quello che ha il valore di valutazione più bassi di tutti 417 e Pitesti quindi il prossimo nodo a essere espanso non sarà Bucharest che è a 450 ma è Pitesti che è a 417 il discorso è chiaro e cioè ok ho visto che c'è Bucharest sulla lista di nodi frontiera ma se lo espandessi rischierei di fare esattamente quello che faceva la Griddy quindi non trovare la soluzione ottima e visto mai può anche darsi che sia la soluzione ottima ma in questo momento non lo posso sapere bisogna che vado ad espandere Pitesti perché magari da Pitesti c'è un percorso che va a Bucharest e infatti c'è perché Pitesti è vicino a Bucharest per cui è molto vicino a Bucharest quindi è possibile andare da Pitesti a Bucharest con un salto molto breve abbiamo che a questo punto effettivamente di tutti i nodi che sono sulla frontiera alcuni dei quali ripetuti semplicemente con funzioni di valutazione differenti abbiamo che quello che ha la funzione di valutazione più bassa di tutti e quindi verrà selezionato per essere espanso è Bucharest che è a 418 a Pitesti a questo punto 418 Rimini volce a 418 e così via quindi viene selezionato Bucharest per essere espanso a quel punto ci accorgiamo che è il gol e abbiamo trovato la soluzione e effettivamente da questo esempio salta fuori che la soluzione Bucharest è la migliore di tutte e la soluzione ottima però questo qui non l'abbiamo provato non l'abbiamo provato che l'algoritmo che abbiamo appena utilizzato trova sempre la soluzione ottima e in effetti non sarebbe così se non fosse che la funzione euristica godesse gode in questo caso proprio di una proprietà che adesso andiamo a introdurre e discutere è che la proprietà della funzione euristica che fa sì che questo algoritmo A diventi ottimo come nell'esempio che abbiamo appena visto e qual è il discorso il discorso è questo qui se noi applicassimo l'algoritmo che abbiamo appena visto a questo grafo partendo da questo nodo allora che potendo andare in uno qualunque di questi due nodi goal e utilizzassimo l'algoritmo che abbiamo appena visto che cosa faremo faremo questa scelta siccome 73 che sarebbe il costo di questo arco più la funzione di euristica valutata sul nodo Y che è 1 fa 74 mentre invece il costo di quest'arco è 2 ma la funzione euristica calcolata sul nodo X che è 100 sommata a 2 darebbe 102 essendo 74 minore di 102 la scelta che farebbe l'algoritmo appena visto è quella di espandere questo nodo dopodiché espandendo questo nodo si troverebbe questo goal qui che avrebbe a questo punto un costo 74 e l'algoritmo finirebbe avendo trovato questo nodo goal non troverebbe quest'altro nodo goal che avrebbe un percorso ottimale perché il costo di questo il percorso per questo nodo goal sarebbe 2 più 1 3 e non 74 quindi trova un goal subottimo non trova il goal ottimo cioè quello a percorso minore non trova la soluzione ottima come mai è successo questo è successo questo perché qui c'è stata sul nodo X una funzione di valutazione euristica terrificante cioè ha terrorizzato il il l'algoritmo A e l'ha scoraggiato dall'espandere il nodo X quindi si è andato a espandere il nodo Y perché aveva una funzione di euristica assolutamente promettente nonostante avesse una funzione di calcolo di costo molto alta quindi 74 è stato minore di 102 si è preferita questa alta strata sbagliando nel senso che si è andata a trovare poi una soluzione subottima qual è il problema il problema è nella natura dell'euristica qui abbiamo al nodo X una valutazione dell'euristica 100 che è 100 volte superiore a quello che sarebbe il costo per andare da questo nodo al gol che è 1 allora se noi impediamo alla funzione euristica di poter avere questo comportamento cioè di poter essere una sovrastima del percorso ottimo ma concepiamo delle euristiche che siano solo delle sottostime del percorso ottimo da un certo nodo fino al gol cosa che avevo dato per scontato essere così nella prima precedente unità didattica ma in effetti adesso capiamo perché è importante che lo sia a questo punto l'algoritmo A che sarebbe comunque completo ma non è ottimo diventa ottimo a quel punto l'A l'algoritmo A viene chiamato A star ma non in virtù di se stesso ma in virtù della particolare euristica di cui lui sta facendo uso e qual è la particolarità dell'euristica noi diciamo che una euristica una fusione euristica è ammissibile se per ogni nodo essa dà una sottostima del percorso ottimo da quel nodo al nodo gol a un nodo gol essendo una sottostima quindi è chiaro quello che abbiamo introdotto anche nella già nella prima unità didattica perché ne vogliamo che le euristiche abbiano valore zero quando si raggiunge uno un gol perché chiaramente essendo un costo zero per andare dal gol a se stesso ed essendo h una sottostima non può che avere valore nullo quindi quando la funzione euristica per ciascun nodo è una sottostima del percorso ottimo che bisogna eseguire da quel nodo al gol ad un gol diciamo che l'euristica è ammissibile e se l'euristica ammissibile a cambia il nome diventa a star e diventa una strategia ottima addirittura anche per grafi infiniti cioè con un numero di stati infinito e anche con cicli non so se avete notato ma nell'esempio che ho fatto precedentemente non abbiamo eliminato dalla frontiera nodi che facevano parte già della lista dei nodi visitati li abbiamo tranquillamente lasciati sulla frontiera e che cosa dobbiamo dire riguardo innanzitutto se torniamo indietro a un certo punto vediamo che abbiamo espanso Fagoras prima Riminico Fagoras non ricordo male esatto prima Riminico euristica quella era un esempio era proprio la distanza in linea d'aria essendo una sottostima una funziona euristica immissibile essendo una sottostima del costo ottimo per raggiungere il goal da partire da quel nodo effettivamente questo ci può far compiere del lavoro inutile cioè nella fase di espansione dell'albero si può espandere dei nodi e poi ci pentiamo torniamo indietro da tornare a espandere dei nodi che precedentemente avevamo abbandonato però nonostante facciamo questa fatica in più nella generazione nella determinazione del percorso ottimo non si perde la possibilità non si perde il percorso ottimo in particolare la componente G fa anche sì che si abbandonino cammini che vadano troppo in profondità per cui se andiamo a espandere un nodo visitato chiaramente stiamo raddoppiando il percorso quindi automaticamente la funzione la funzione di valutazione farà sì che molto probabilmente non si andrà a rispandere un nodo già presente nella un nodo che sia già stato visitato quello che è importante capire è che la componente H fa sì che ci sia lo vedremo anche cerchiamo di capirlo anche fra un po' una riduzione del branching factor man mano che si va avanti il branching factor cioè il fattore di diramazione dell'albero di ricerca diventa sempre più piccolo e questo si traduce in un vantaggio esponenziale a crescere della profondità dell'albero cioè più è profondo l'albero all'inizio sostanzialmente non si ha un vantaggio nelle prime passi per cui se la soluzione fosse a profondità bassa non avremmo un grosso vantaggio nell'utilizzare l'euristica potremmo anche utilizzare una bread first o una uniform cost search man mano che però la ricerca si approfondisce e quindi in caso in cui la soluzione è una soluzione che comporta un percorso lungo beh più si va avanti verso la ricerca della soluzione più il vantaggio dell'uso dell'euristica si rende effettivo come mai se H se la funzione è immessibile a star l'algoritmo che ne deriva è ottimo beh lo dimostriamo con questa considerazione supponiamo che sia già stato generato nella frontiera un goal subottimo per esempio bucaresta a un certo punto è stato generato nella frontiera con il percorso 450 nell'esempio precedente e supponiamo che ci sia nella frontiera un altro nodo ancora non espanso N che faccia parte del percorso più breve verso il goal ottimo G P testi sarebbe stato per fare il parallelo con l'esempio precedente comunque la situazione schematicamente è rappresentata in questa figura allora cosa succede qui abbiamo il G2 subottimo e questo è il G ottimo abbiamo che la funzione di valutazione di G che è data per definizione dalla funzione di costo più la funzione di euristica essendo l'euristica di un goal 0 e in pratica coincide con la sua funzione di costo la funzione di valutazione coincide con la sua funzione di costo G che per definizione essendo G2 un subottimo sarà minore della funzione di costo di G2 la quale a sua volta sarà minore di G2 più in realtà questo sarebbe minore uguale perché H sarebbe comunque 0 anche per G2 che insomma la funzione di costo è G2 e anche la funzione di valutazione di G2 ora se H è ammissibile che cosa abbiamo che la funzione di valutazione di N questo nodo che sta sulla frontiera e che ancora non è stato espanso per definizione è data dalla sua funzione di costo più la sua euristica e che deve essere minore del costo del goal ottimo in quanto che per definizione se H è ammissibile allora lei è una sottostima del costo che bisogna sostenere per andare dal nodo N a G e quindi non può essere che la funzione di valutazione del nodo N sia minore sia maggiore del costo del percorso verso il goal G che essendo che in pratica coincide con la funzione di valutazione di G quindi nell'ipotesi che H sia ammissibile quindi sia una sottostima del costo che ci vuole per andare da un da un nodo N a un nodo goal abbiamo che la funzione di valutazione di un nodo che sta sulla frontiera è minore ovviamente della funzione di valutazione del goal ottimo che a sua volta è minore per definizione della funzione di valutazione del goal subottimo e quindi non può essere che N questo nodo che sta sulla frontiera che fa parte di un percorso che vada di un percorso ottimo che vada verso un goal venga espanso dopo G2 quindi G2 essendo un goal subottimo verrà sempre espanso dopo che verrà espanso un nodo N che è come lui sulla frontiera ma che fa parte del percorso verso l'ottimo in pratica il G2 non verrà mai espanso fino a che non verrà espanso il goal ottimo quindi a star essendo la funzione di euristica ammissibile espanderà sempre troverà sempre il goal ottimo prima del subottimo questo in realtà è vero non solo per il goal ma è in realtà vero per ogni nodo cioè quando l'algoritmo a star lo possiamo anche verificare nel esempio precedente va a espandere un nodo cioè a visitarlo beh in quel momento sicuramente per quel nodo ha trovato il percorso ottimo per quel nodo non quando un nodo è generato e messo sulla frontiera ovviamente non è così abbiamo visto prima bucrazia viene generato messo sulla frontiera ma non con il suo percorso ottimo quando viene espanso il nodo nel momento in cui a star espande un nodo sicuramente per quel nodo è fissato il suo percorso ottimo quindi cosa succede che in pratica a star mentre la la branching fact la bread la bread la ricerca bread first espande per livelli e quindi dato un nodo genera tutti i figli e poi tutti i nipoti e così via a star espande per livelli di valori della funzione di valutazione e quindi ha un comportamento che effettivamente tende a diventare vantaggioso man mano che ci si allontana dal nodo di partenza per quanto riguarda il numero dei nodi che verranno espansi quindi mentre la bread first espande tutti i figli e poi tutti i nipoti e poi tutti i pronipoti e così via a star non espande tutti i figli ma quasi forse anche tutti la prima volta poi espande non tutti i nipoti meno che mai i pronipoti meno che mai i propri nipoti e così via cioè ha un comportamento che tende quasi ecco magicamente ad avvicinarsi un'animazione presa dal trovare i percorsi fra Washington e Los Angeles all'interno della rete stradale non stradale rete ferroviaria degli 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 Stati Uniti in pratica si va subito a cercare verso la direzione giusta e man mano che ci si avvicina al nodo goal che è Los Angeles che sarà qua giù la espansione dell'albero diventa sempre meno vasta e quindi sempre più più diretta e ok torniamo quindi alla nostra cosa inserire nella frontiera nodi già visitati non è che rischiamo di perdere la ottimalità la domanda nasce dal fatto che un'euristica ammissibile può temporaneamente espandere nodi non goal lungo percorsi subottimi non è richiesto cioè che il costo del nodo sia pari al costo ottimo per raggiungere quel nodo questo in realtà nell'esempio che abbiamo visto non accadeva mai però in generale potrebbe accadere cioè la domanda è questa ripeto cosa succede se noi facciamo applichiamo a star facendo un controllo di il controllo di non immettere nella frontiera nodi che siano già stati espansi nel caso precedente li immettevamo nella frontiera e abbiamo visto che abbiamo trovato la soluzione ottima non è che impedendo di metterli nella frontiera noi ci limitiamo alla possibilità di poter trovare la soluzione ottima e allora per rispondere a questa domanda introduciamo un'ulteriore proprietà di cui può godere l'euristica quella di monotonicità cioè dopo oltre alla proprietà di ammissibilità anche quella di monotonicità che significa significa che per la definizione di questa qui se noi abbiamo due nodi n un nodo successore n' entrambi con una loro funzione euristica abbiamo che la funzione euristica del nodo antecedente non può essere superiore alla somma della funzione euristica del suo successore più il costo di passo che si ha per passare da n al suo successore in pratica è una disuguaglianza triangolare se l'euristica obbedisce a questa proprietà che ripeto la differenza fra le due euristiche di un nodo e di un nodo successore non sia sia inferiore al costo deve essere inferiore al costo del percorso al costo di passo per andare dal nodo al nodo successore beh allora abbiamo che come si vede qui semplicemente da questa sequenza di disequazioni disuguaglianze che la funzione di valutazione risulta non decrescente lungo il percorso quindi non può mai capitare che si espanda un nodo che abbia un un valore della funzione di costo inferiore del nodo precedente quindi così facendo noi siamo sicuri che l'algoritmo star troverà sicuramente la soluzione ottima questo se la funzione euristica ripeto oltre che ammissibile è anche monotona o monotonica cosa che effettivamente è vero nel caso della distanza linea d'aria nell'esempio che abbiamo fatto quindi nell'esempio che abbiamo appena fatto se noi avessimo impedito di rimettere nella frontiera Arad a partire da Sibio e così via comunque non ci saremmo preclusi la possibilità di trovare la soluzione ottima e ovviamente fare questo può essere un vantaggio in termini di occupazione di memoria quindi se l'euristica è monotona ASTAR ha già trovato il cammino ottimale ad ogni nodo selezionato per l'espansione quindi quando un nodo si espande sicuramente quello lì il valore di costo di quel nodo è quello ottimale e quindi ASTAR risulta ottimamente efficiente cioè a parità di euristica nessun altro algoritmo espande meno nodi senza rinunciare all'ottimalità quindi abbiamo trovato veramente l'algoritmo base per fare qualunque altra operazione qualunque altra operazione che andremo a fare sarà un'operazione dal punto di vista dell'efficienza peggiore a meno che ovviamente non rinunciamo all'ottimalità quindi tutti gli altri algoritmi che vedremo rinunceranno all'ottimalità perché per quanto riguarda l'efficienza ASTAR è ottimamente efficiente in realtà nella successiva unità didattica vedremo degli algoritmi che in qualche maniera possono anche migliorare l'implementazione ma li discuteremo appunto nella successiva unità didattica sempre per quanto riguarda l'ottimalità e quindi diciamo che in pratica quello che accade è questo che se un'euristica è monotona sicuramente è ammissibile questo è praticamente per definizione di monotonicità invece è difficile trovare delle euristiche ammissibili che non siano monotone quindi quasi sempre le euristiche ammissibili sono anche monotone come appunto il caso della distanza in linea d'aria quindi in pratica in questo caso se l'euristica è monotona quando viene rigenerato un nodo che era stato già visitato non è necessario andare a vedere se il nuovo percorso è più corto e quindi non lo mettiamo nella lista dei nodi frontiera non potrebbe essere lo viene scartato e via adesso vediamo per concludere alcuni esempi di euristiche nel caso della della dell'Enepaso ad esempio possiamo avere due euristiche l'euristica numero di test fuori posto è un'altra distanza è un'altra euristica è la distanza ammalata cioè la somma delle distanze orizzontali e verticali tutti i tasselli rispetto alla posizione che dovrebbero avere nello stato goal in questo caso ad esempio abbiamo come numero di test fuori posto 5 distanza manata 9 abbiamo due possibili euristiche entrambe sono ammissibili entrambe sono anche monotone dobbiamo decidere se utilizzare uno utilizzare l'altra cioè ci poniamo la domanda ma è possibile costruire una graduatoria di bontà di convenienza sulle euristiche per esempio supponiamo di simulare Astara a partire da quel goal iniziale si generano questi figli con l'npado andiamo a espandere il nodo che abbia la funzione di valutazione minore ancora procediamo sempre scegliendo il nodo con la funzione di valutazione minore qui abbiamo una funzione di valutazione che è pari quindi sostanzialmente possiamo scegliere quale andarlo a prendere facciamo questa scelta facciamo questa scelta e così si continua a trovare dei nodi che hanno lo stesso valore per la funzione di goal se ne scegliamo uno a caso si genera questa sequenza e alla fine andremo verso il goal ora la domanda è magari avendo scelto un'altra euristica avremmo ristretto il branching factor di più sì la risposta è sì perché sostanzialmente ecco quello che accade è che se noi utilizziamo un'euristica sostanzialmente come abbiamo detto prima si riduce il branching factor man mano che ci avviciniamo verso la soluzione una euristica migliore di un'altra farà sì che questo effetto sarà più pronunciato sarà più pronunciato per cui comporterà una una riduzione effettivamente del tempo dovuto al fatto che il branching factor si riduce comunque sarà una cerca esponenziale però si ridurrà il branching factor quindi concludendo su ASTAR ASTAR rispetto alla gridi search guadagna nell'ottimalità e poi per quanto riguarda la complessità temporale e spaziale abbiamo che comunque è una complessità esponenziale però ecco qui non l'ho detto ma il branching factor appunto tende ad essere sempre minore per cui è in ciò che risulta il vantaggio rispetto a una a una bread first a uniform cost search l'euristica rispetto all'uniform cost search fa sì che il branching factor diventi sempre minore man mano che ci avviciniamo alla alla soluzione bene con questo si conclude questa unità nella successiva vedremo come superare i problemi di astare e faremo anche delle valutazioni su come scegliere un'euristica piuttosto che un'altra nel caso che le euristiche ammissibili e monotone ce ne abbiamo più di una